Incontro molto positivo, di grande collaborazione. Il Comune chiaramente ha rivendicato le somme che deve ricevere per il pagamento dei fitti dello stadio, per la questione canone che riguarda il palazzetto e per altri crediti relativi alla SPA e alla COM, mentre la Sidigas ha evidenziato quelle che sono le somme a lei dovute rispetto ad alcuni lavori che avrebbe dovuto fare il Comune presso lo stadio, dei quali invece ha dovuto accollarsi l'ONE, la stessa Sidigas, quale proprietaria del Calcio Avellino, così come per il palazzetto, la fornitura di alcune attrezzature e anche di alcuni lavori effettuati. Per ciò che concerne invece la verifica debiti, crediti Sidigas, SPA, COM e COM, C'era già un atto che è stato firmato dai dirigenti del Comune di Avellino e rispetto anche a un debito che avrebbe il Comune per lavori effettuati dalla SPA per quanto concerne il tunnel, anche per questa questione si troverà una soluzione, insomma una riunione molto positiva che ci ha consentito di mettere sul tavolo tutte le questioni aperte, e per ogni questione sono convinto troveremo la soluzione migliore nell'interesse del Comune ma anche nei diritti della Sidigas. Si va per compensazioni quindi, diciamo, per essere brutali? Si va per la verifica di somme da dare, di somme da avere. Ci sono oggettivamente alcune prestazioni che si è dovuta accollare l'Avellino Calcio per lavori non effettuati sullo stadio da parte del Comune o ad esempio c'è il mancato utilizzo del campo B che pure ha un valore all'interno di una convenzione per la quale l'Avellino Calcio paga, così come al Palazzetto c'è la vicenda, ad esempio, della fornitura di alcune strutture, i tabelloni, i 24 secondi, quindi la recensione esterna, quella che viene utilizzata per il prefiltraggio e poi appunto ci sono alcuni lavori effettuati dalla SPA per il tunnel. Insomma, questioni ancora appese da anni. Finalmente è arrivato il momento che il Sindaco, l'amministrazione, decidesse di chiudere tutte le partite e perporre la parola fine a questa questione. Diciamo che il frutto di questo out-out è la riunione di stamane che ha fatto emergere anche le rivendicazioni legittime che la Sidigas nel calcio, nel basket e nel gas ha portato alla nostra attenzione. Dall'altro canto chiaramente c'erano i dirigenti che hanno spinto affinché fossero pagati i canoni. Stamattina la partita, mi auguro, sia cominciata per essere chiusa in breve tempo e quindi risolvere nella piena correttezza, nel rispetto delle regole, questa annuosa questione. C'è da effettuare il pagamento di circa 300 mila euro rispetto al mutuo del credito sportivo, ma allo stesso tempo ci sono alcune cifre previste in convenzione. Ricordo che il palazzetto prima era stato dato in concessione pluriannale alla Scandone. La Convenzione prevedeva un contributo di 50 mila euro all'anno, più un rimborso di circa 80 mila euro forfettari per lavori di manutenzione. È evidente che queste somme la Scandone chiede le siano riconosciute, quindi da un lato c'è il mutuo, dall'altro queste somme va verificata quanta parte di queste somme che la Scandone oggettivamente deve essere elargita alla Scandone e poi si effettua non una compensazione ma una valutazione aritmetica corretta. È un'unione tecnica relativa alla richiesta legittima da parte dei funzionari del pagamento di Avellino Calcio e Scandone relativo ai canoni di fitto delle strutture e bisognava chiarire questa vicenda e me ne era definitiva. Due questioni. Prima la questione degli 80 mila euro, per cui oggettivamente ci sono dei lavori tangibili che vanno riconosciuti determinando le somme da riconoscere. Per quanto riguarda i 40 mila euro, non parlerei ancora di rateizzazione. La Avellino Calcio ha fatto presente al Comune che ad esempio nella Convenzione c'era l'utilizzo del campo B, per cui una parte del canone, una struttura non omologata in realtà non può essere utilizzata, non credo ci sia anche il collaudo sulla struttura ma questo si verificherà se non fosse utilizzabile, quindi non collaudata e non omologata è evidente che non potendone usufruire quella struttura non può essere pagata all'interno di un canone così come c'è una questione relativa all'utilizzo del gruppo elettrogeno ai lavori di attenzione straordinaria sugli impianti antincendio, sul server insomma una serie di questioni per cui la Avellino Calcio ha dovuto impegnare proprie somme che invece sarebbero dovute essere in capo al Comune è evidente che queste somme sono state anticipate e quindi non possono essere pagate due volte. La Avellino Calcio ha sempre manifestato la disponibilità a condividere la struttura anche su mia personale sollecitazione, io più volte ho detto al Santo Maso che poiché era mio dovere fornire all'altra squadra di calcio della città una struttura idonea ho offerto l'utilizzo del Partenio, è evidente che se si utilizza il Partenio bisogna condividere le spese della Convenzione e anche quelle della gestione che mi rendo conto sono onerose il Santo Maso già sta affrontando grandi sacrifici per partecipare al campionato di SRD ma è una scelta del Santo Maso andare a Monteminetto dove si paga forse nulla e non utilizzare il Partenio che invece ha un costo abbastanza consistente, è una scelta loro. In realtà la vicenda è diversa perché la Convenzione che vale circa 9 mila euro al mese si sarebbe dovuta dividere, quindi erano 4 e 5 di fitto più le spese oggettive di utenze e manutenze diviso 2. Al di là del 1500 è a partita. Quando si condivide l'utilizzo di una struttura fatta 100 la spesa ognuno si accolla il 50%. I 1500 del velino calcio richiesti erano da verificare ma mi pare che non ci fosse la volontà da parte del Santo Maso di accollarsi l'onere. Credo che il problema fosse altro onestamente, non penso che il tema fossero 1500 anche perché la proposta era verifichiamo i consumi effettivi prima della partita e a fine partita luci, acqua, gas, manutenzione, custodia. Sono spese che devi affrontare se vuoi utilizzare una struttura come il Partenio. Credo che non ci fosse questa disponibilità economica ma la comprendo perché mi rendo conto che affrontare queste spese così come le affronta il calcio avellino probabilmente in questo momento anche di grandi sforzi da parte del Santo Maso non rappresentava un ulteriore sforzo possibile. Onestamente l'obiettivo non è incassare, l'obiettivo è far rispettare le regole ma rispettare anche i diritti. Le regole sono fissate dal pagamento di canoni che ha stabilito il commissario per ciò che concerne il calcio e questa amministrazione sempre prendendo spunto da una delibera del commissario per ciò che concerne il palazzetto tenendo presente però che oggettivamente la cifra prevista dal commissario di 270 mila euro per il fitto annuale del palazzetto credo che sia fuori mercato anche da una indagine effettuata tra vari palasporti Italia. Quello più oneroso oscilla intorno agli 80-90 mila euro annui parliamo di Reggio Emilia o di strutture comunque importanti quindi 270 mila euro restamente per il palasporto del Mauro mi sembra un po' eccessivo tanto è vero che il bando è andato deserto e quindi da questo punto di vista abbiamo fissato le somme per il fitto del Mauro il commissario quelle per la convenzione annuale della storia partenio a noi spetta il compito di far mantenere fede agli impegni assunti dai club ma anche quello di far rispettare i diritti che società hanno magari anticipando somme per degli interventi che non erano dovuti.